Sono arrivati da tutta la Toscana gli insegnanti delle scuole superiori che hanno partecipato alla quinta edizione della Summer School sui razzismi di ieri e di oggi e sul buon uso della memoria organizzata dalla regione toscana negli spazi del Santa Chiara Lab di Siena in preparazione al treno della memoria che nel 2019 porterà di nuovo centinaia di studenti ad Auschwitz. Una intensa cinque giorni che dal 20 al 24 agosto ha condotto per mano e con rigore scientifico i docenti tra le testimonianze di chi ha sopravvissuto alla Shoah, di chi ha perso l'identità cancellata da un numero tatuato sul braccio, di chi non è mai tornato per raccontare l'orrore e di chi ha avuto la forza di raccontare. Al centro la memoria che dopo l'emozione suscitata ogni volta dai terribili ingressi di Auschwitz e Birkenau deve resistere e indicare la strada contro la xenofobia e i razzismi appunto di oggi. Vogliamo offrire degli strumenti di conoscenza. Abbiamo radunato qui al Santa Chiara a Siena tutti i migliori studiosi di quel periodo appunto che va dall'emanazione delle leggi razziali fino allo sterminio e vogliamo appunto che gli insegnanti prima di tutto riflettano sulla storia, riflettano su ciò che è stato. Ad aprire i lavori in un video sono stati loro i testimoni ancora in vita delle deportazioni e delle torture, molti toscani intervistati nel corso degli anni per lasciare una viva voce di quello che tra le mura e i fili spinati dei campi di concentramento e di sterminio accadde. Voci ma anche immagini drammatiche di quel che resta che sono testimonianze storiche ma anche terribili ammonimenti. L'attività su questo settore si basa su due punti. Uno, il controllo primario e il controllo secondario. Il controllo secondario è la ripressione, quindi come è successo con chi ha sparato a gente di colore eccetera, interviene la polizia. Vuol dire però che il controllo primario, cioè l'educazione, ha fallito perché altrimenti non sarebbe bisogno di. Quindi questa attività che la regione svolge da ormai da 15 anni, anzi quasi di più anche 16, non è esaustiva ovviamente, però va nel senso e nella direzione che non bisogna stare fermi. Bisogna sempre intervenire. A questo hanno puntato le 24 lezioni a cui si sono aggiunti i laboratori didattici e i seminari di approfondimento proposti agli insegnanti che hanno partecipato alla Summer School della Regione Toscana, che oltre al treno della memoria ogni due anni organizza un grande evento al Mandela Forum di Firenze, davanti a un migliaio di studenti che così hanno modo di conoscere e parlare con i testimoni rimasti dell'orrore nazista, che all'epoca dello sterminio e delle deportazioni erano bambini. Tutti subirono la persecuzione, tutti per esempio in Italia subirono leggi razziali, certo per gli adulti leggi razziali erano anche dei decreti, delle leggi, delle applicazioni visibili e comprensibili. Spesso per i bambini i decreti ovviamente non significavano nulla, fu la pratica dell'esclusione, della separazione, dell'isolamento lento e progressivo, ricordiamoci che nel 1938-1943, prima dell'iniziale delle cacce agli ebrei, ci erano molti anni in cui lentamente i bambini furono espursi dalla società. Raccontare quello che è avvenuto nei campi di sterminio e cosa è stato Auschwitz, destinazione del treno della memoria, è però sempre più difficile, perché sono tante le voci di chi nega lo sterminio e le camere a gas. C'è una storia del campo di Auschwitz molto importante, interessante per capire da dove parte il progetto nazista e fin dove arriva e perché arriva poi allo sterminio degli ebrei. C'è una memoria, quindi ci sono delle controversie intorno alla memoria, forse oggi studiando le memorie che sono state rappresentate ad Auschwitz nei vari padiglioni si potrebbe capire che cos'è oggi l'Europa e le sue difficoltà e ci sono anche delle questioni legate al negazionismo di Auschwitz e delle camere a gas e del suo funzionamento che si sta diffondendo anche tra i giovani. Sui taccuini e sui quaderni degli insegnanti parole come forni crematori e ziklon e il micidiale gas usato per sterminare i deportati, perché anche l'orrore ha un suo linguaggio, lo stesso che i docenti hanno il compito di insegnare ai ragazzi in classe prima della visita in Polonia e sono loro stessi a dire che si tratta di un compito gravoso, talvolta estremamente difficile ma indispensabile. I ragazzi sono motivati ad approfondire questi temi, loro sono portati a seguire dei percorsi che noi stessi poi indichiamo, certamente ci vuole una buona dose di cultura e un approfondimento dei temi indicati proprio dalla Summer School e che poi verranno approfonditi. La memoria per gli studenti oggi è qualcosa abbastanza nebuloso e che appunto richiede da parte di chi ha il compito di educare, di formare, di trasmettere conoscenze una capacità direi non banale e sempre da aggiornare di intervento. Bisogna saper creare nelle persone che ci ascoltano e che collaborano con noi in fondo nell'azione educativa quella capacità di distinguere, di cogliere le informazioni importanti, la capacità critica. Oggi gli studenti vivono nel presente, nell'attimo presente e quindi hanno perso il senso della storia, del passato e non vedono nemmeno il futuro e quindi gli insegnanti hanno il compito di aiutarli sollecitandoli attraverso documenti, testimonianze, libri e tutto il materiale possibile per aiutarli a riconquistare questo senso del passato che li porterà poi anche a vedere il futuro. Tante le domande poste dalla platea dei partecipanti per rendere il futuro viaggio sul treno della memoria un'esperienza di crescita umana e civica con un obiettivo preciso. Avere molti spunti appunto di riflessione, di poter imparare altre cose da professori comunque esperti in materia che avrò occasione insomma di sentire e anche appunto prepararmi a un eventuale viaggio comunque della memoria o comunque a quello che potrà essere poi un futuro accademico o comunque nel mondo anche dell'insegnamento. Ai docenti sono stati dati suggerimenti minuziosi su particolari e dettagli tangibili rimasti nei campi perché quei dettagli, l'esperienza di anni di viaggi del treno della memoria lo insegna, si imprimono in modo indelebile nella mente e mettono in guardia dai razzismi di oggi, figli di quelli di ieri contro cui la scuola deve intervenire. Ma il paradigma con cui spiegare la storia ai giovani ha bisogno di essere aggiornato. C'è un bisogno di un discorso pubblico di storia che quegli organismi che spesso lo facevano quel discorso pubblico, ma che ne so, dalla famiglia, alla televisione, alle istituzioni, eccetera, oggi non lo fanno. Nel senso per esempio anche la presenza stessa, come dire, delle voci dei nonni che avevano una forte, una presenza molto forte appunto nella vita dei ragazzi, oggi ce l'hanno di meno e soprattutto appunto non sono i testimoni dei grandi fatti del Novecento. Dall'altra parte penso anche che da un punto di vista dell'educazione, cioè l'educazione delle superiori, insomma dei ragazzi che arrivano poi alla maturità, debba anche prevedere uno spazio importante per l'educazione alla politica. Insomma il razzismo si combatte nel quotidiano, anche contrastando quelle forme di linguaggio che soprattutto sul web rischiano di creare pericolose derive non solo in Italia ma anche in Europa. Eppure il passato è lì a parlare per noi, anche nelle storie di chi è tornato dopo le deportazioni. È un tema complesso, poco conosciuto e che aiuta a fare i conti con la Shoah in senso diacronico, quindi a capire come effettivamente il giorno della liberazione dei campi di concentramento e di sterminio non siano finite le difficoltà, non sia finita la tragedia ma ne si è iniziata un'altra. E aiuta anche un po' a comprendere la storia di questa Italia che aspetta, di quest'Italia che fa poco per i suoi ex deportati che è poi l'Italia che ci porterà alla democrazia. Storie da ascoltare, su cui riflettere prima di mettersi in viaggio sul treno della memoria per non arrivare impreparati a quello che è un vero appuntamento con la storia. Nell'occasione dell'ottantesimo anniversario della promulgazione delle leggi razziali ci è sembrato quasi naturale collegare quello che è successo 80 anni fa e quello che sta succedendo oggi perché quanto mai è odierno che gli insegnanti sono sempre in prima linea nel parlare con i ragazzi e stare a scuola facciano una riflessione su quello che è successo e quello che sta succedendo perché è necessario che si rifletta su questo parallelismo che sta succedendo pur con la debita differenza. Ora non resta che prepararsi a fondo sui banchi, sui libri e sulle testimonianze dei sopravvissuti per non lasciarsi cogliere impreparati da un viaggio difficile da affrontare come quello sul treno della memoria. Bisogna sapere quello che è stato, bisogna sapere profondamente la verità di quello che è stato, bisogna imparare perché appunto non ci ritroviamo mai a delle situazioni di quel tipo.